Da quanto tempo lei usa internet, il computer? Il computer ormai diciamo saranno 15 anni, forse di più. Ho partecipato al corso che il mondo digitale ha fatto al Democrito e avevano organizzato una collaborazione con i ragazzi del liceo che insegnavano il computer ai nonni. Quindi che cosa hai imparato? La prima cosa che hai imparato? No, io già lo sapevo, io già mi adoperavo molto rudimentalmente, però siccome mia figlia sapeva questa mia passione, mi aveva regalato il computer e non mi sono mai arreso sempre cercato di sfruttare il computer e poi il telefonino è al massimo delle potenzialità. Sono abbonata a vari giornali e me le leggo al computer. Gli acquisti online moltissimi, per esempio anche una cosa molto utile è il rapporto con la banca, per cui tutti gli estratti conto, i movimenti bancari, i bonifici che posso fare o meno. Poi un'altra cosa pure che è molto comoda è l'app del poste italiane. Possiamo prenotare senza fare la fila, possiamo prenotare a una certa ora per ritirare una raccomandata, a svedire un pacco. Ha ritrovato qualche vecchio amico su Facebook? Esatto, una vecchia amica che era la mia, compagna di scuola della scuola elementare, pensi un po', cara Paola, ci siamo ritrovati su Facebook dopo 60 anni, 70, esatto.